pace bene a tutti ecco ringraziamo proprio gesù della sua presenza e vorrei fare questa catechesi breve coincisa però su una cosa semplice e potente proprio allora consagriamo tutto alla madonna ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte amen ecco questa piccola catechesi vuole essere un completamento alla catechesi sul semi come il seme di senape come un seme di senape e io ho detto per grazia di dio che come un seme di senape significa il semi di senape significa che io quando mi trovo in una situazione ho quella fede che mi fa credere che dio che tutto quello che c'è in quella situazione è completamente sottomesso a dio alla sua autorità anche un capello del mio capo anche un passero che mi passa vicino e che cade a terra qualunque cosa c'è in quella situazione è io credo che è completamente sottomessa all'autorità di dio e in cristo signore nel suo nome naturalmente non nel mio nel suo nome nella sua potenza e nella sua grazia io credo che non soltanto dio è signore di quella situazione quindi ha l'autorità su tutti i dettagli anche i minimi anche su un'oliva che sta sulla pianta dell'olivo ma su tutto anche su una farfallina che vola vicino a me tutto e non solo questo significa avere il seme di senape il seme di senape è come il comandamento dell'amore ama dio e ama il prossimo quindi la fede di se la fede come un seme di senape ci fa credere che dio è il signore quindi che devo amare dio ma che in dio anch'io sono signore e di quella situazione e quindi devo credere che se dio mi ha messo in quella situazione io ho l'autorità la forza e tutto quello che mi può servire e dio mi provvederà tutto quello che mi serve per affrontare sopportare vincere quella situazione che significa sopportare vincere allora sopportare io ho già detto che è già vincere perché perché quando io mi incontro con una situazione le cose possono essere due se io la sopporto e l'affronto con la potenza di dio significa che dio mi dà l'autorità per non farmi schiacciare da quella situazione e che quindi nel tempo che dio sa comunque io l'affronterò e dio mi darà una via d'uscita da quella situazione e quindi la situazione non mi non mi vincerà ma alla fine tutto quello che dio vuole dalla mia vita lo compirà anche cose che sembrano impossibili immaginatevi quando sarà ci aveva quell'età anche abramo ormai sembrava che la prospettiva di un figlio fosse completamente impossibile eppure e dio gli ha dato l'autorità la forza di sopportare tutte e quando è stato il momento dio ha trovato una via anche per realizzare quello che era il suo progetto che loro avessero un figlio questo è molto molto importante allora quindi è come il seme di senape significa che il seme di senape significa che io credo che dio l'autorità su ogni minimo dettaglio della situazione e che in lui la ricevo anch'io l'autorità la forza e tutto quello che serve che dio mi provvede per affrontare vittoriosamente quella situazione cioè affinché la situazione non mi schiacci ma io l'affronti la superi e e quindi non mi impedisca di fiorire come dio vuole ma io in dio fiorirò come lui ha stabilito perché come dice mardogeo nell'antico testamento nulla si può porre alla volontà di dio il diavolo può cercare di rallentare i progetti di dio può cercare di impedirli ma la volontà di dio si compie quindi questo è molto molto importante questo è il seme di senape che mi permette permette proprio al signore di operare e quei miracoli strepitosi nella vita vi ricordate che a cafarno dato che non trovò la fede la fede come un seme di senape si disse e si dice che non poter compiere molti miracoli che significa in altre parole non poter compiere tutti i miracoli che voleva perché perché gesù dice che se una fede come un seme di senape dirà questo monte spostati e nulla gli sarà impossibile però dice che deve avere fede come un seme di senape per questo mi ha fatto lo spio santo spiegare cosa significa seme di senape se tu chiedi allo spio santo il dono di credere che dio è signore di quella situazione anche nei minimi dettagli e chiedi a lui che ti faccia partecipi della sua autorità e forza per affrontare e vincere quella situazione questo avverrà questo avviene in due modi e allora la prima cosa è l'atto di fede quindi io credo che dio è signore e lo posso dire anche a parole con la lode signori io ti lodo ti ringrazio perché io credo che tu sei il signore di questa situazione nei minimi dettagli li puoi anche elencare i dettagli per esempio io credo che tu sei il signore di questa situazione sei il signore anche della flebbo che mettono a mio marito e per fargli le terapie sei signore anche degli effetti collaterali sei signore cioè dichiarare quindi credere che dio è signore e poi cominciarlo a dichiarare o attraverso la preghiera di lode ringraziandolo per quello che dio farà come per come sarà signore in quella situazione proprio dichiarando signore nel tuo nome io credo che tu mi dà l'autorità su questa situazione perché me ci hai messo e quindi se me ci hai messo me ci hai messo non per perdermi o per vincerla quindi mi dà l'autorità cioè mi provvedi quello che mi serve allora con questa autorità adesso nel nome di gesù dichiaro che su questa malattia di mio marito dichiaro la signoria tua gesù e dichiaro veramente e addirittura si può arrivare proprio a dire è una cosa molto bella perché ci aiuta ad avere fede perché l'autorità dio ce la dà ma noi la dobbiamo voler esercitare il sacerdote c'ha e l'autorità di consacrare il pane e il vino ma per consacrarlo deve volere consacrare quindi l'autorità dio ce la dà ma poi aspetta che noi diciamo signore adesso nel tuo nome potente e prezioso io credo che tu sei signore di questa situazione nel tuo nome io ricevo da te l'autorità su questa situazione e la voglio esercitare l'autorità su questa situazione per questo per dimostrarti che la voglio esercitare per darti gloria io dichiaro su questa situazione che in te tu sei signore della situazione in te signoreggio anch'io quindi comincio a dire proprio io credo che tu mi dà l'autorità signore gesù nel tuo nome la ricevo e la prendo questa autorità e la voglio esercitare e proprio perché chi ha creduto parla la voglio cominciare a dichiarare quindi nel nome di gesù dichiaro l'autorità di cristo che mi è data anche a me in dono su questa situazione sulla malattia di che ne so di mio figlio dichiaro l'autorità su e la lite che ha fatto mia suocera che ne so con per assurdo mi cognato poi ognuno potrebbe avere la situazione che potrebbe avere però i passaggi fondamentali sono atto di fede cioè credere di chi è proprio dire io credo che tua le signorie credo che me la dai poi credere che dio alla signoria e quindi della donna e poi quindi dire proprio io credo che tu questa autorità me l'hai data quindi nel nome di gesù la ricevo la faccio mia e dichiaro che la voglio esercitare in pienezza su tutta la situazione per questo dichiaro sulla situazione l'autorità che dio mi ha dato dichiaro che questa malattia è sottomessa all'autorità che dio mi ha dato dichiaro che questa cosa è una cosa potentissima allora questo completamento che vi dico questo modo di esplicare la preghiera è proprio il complemento di come un seme di senape questo è molto molto importante poi ognuno la fantasia dello spirito santo ti insegnerà tu poi poi dire credo a dio non serve che dici per forza io credo che tu sei signore puoi cominciare a dirlo anche come la lote signori io ti loto ti benedico perché tu sei il signore questa sezione questa è già credere è già quindi ognuno poi lo può fare con le parole che vuole lui nei modi che vuole lui però le cose da esprimere sono fede che tu sei il signore fede che l'autorità me la dai desiderio di riceverla e di esercitarla completamente vi ho fatto l'esempio il sacerdote all'autorità per consacrare il palerbino ma deve praticamente deve volere consacrare quindi l'autorità ce l'ha la ricevuta ma deve volerla esercitare questo passaggio importantissimo la fede non va soltanto creduta in dio non va soltanto ricevuta ma ci deve essere la volontà di esercitarla io nel nome di gesù credo che tu sei signore di questa malattia e adesso nel nome di gesù ricevo autorità su questa malattia e voglio esercitare l'autorità su questa malattia quindi nel nome di gesù dichiaro la signoria tua sulla malattia nel nome di gesù sgrido questa malattia perché per l'autorità del nome di gesù vada via non torni più quindi credere ricevere esercitare dichiarare se serve sgridare ma questo vale è molto importante e questo è il completamento del seme di senave come come un seme di senave significa non soltanto dio c'è l'autorità non soltanto me la dà a me ma poi concretamente significa fare questo proprio significa praticamente volerla ricevere e volerla esercitare ed esercitare ed esercitarla è l'autorità con i muscoli io posso avere i muscoli delle braccia ma devo accettare di averli muscoli cioè devo accettare in qualche modo il mio corpo ma devo poi anche voler esercitare i miei muscoli se voglio esercitare l'autorità non a caso ci può essere chi ha un avambraccio che se vede che la esercitate in altro invece che pur avendo gli stessi muscoli perché dio gli ha dati cura a lui però sembra che non l'esercita quindi nella fede non conta soltanto credere ma conta il voler ricevere l'autorità e volerla esercitare ed esercitarla un medico riceve la laurea da medico e quella è l'autorità il potere ma poi deve voler esercitare quell'autorità e la deve esercitare concretamente altrimenti rimane medico soltanto in autorità ma non nella realtà cioè c'è il pezzo di carta c'è l'autorità per essere medico ma per poi di fatto dice ma nella vita hai mai fatto hai mai esercitato l'autorità su qualcuno per aiutarlo per dargli ai medicini no mai manco una ricetta ho fatto in vita mia mazza che autorità che dice poi eppure dio dava dato un'autorità meravigliosa dava dato un talento 5 talenti 10 talenti e tu invece di dire lo voglio lo ricevo e lo esercito hai fatto come quello che aveva un talento solo che per paura l'ha ricevuto ma non l'ha esercitato e l'ha messo sotto terra ed io non gli ha detto bravo che non l'ha esercitato sei stato tanto umile così se fa no anzi e ha detto a chi hai e sarà dato ancora di più a chi non ha sarà tolto pure quello che crede di avere perché se tu non hai la volontà di esercitare i talenti non hai la volontà di esercitare l'autorità che dio ti ha dato te credo che perdi autorità sulle cose poi perché non la eserciti è come se un medico sta che ne so in un quartiere c'è sotto 6 mila persone lui potrebbe avere l'autorità per aiutarli per guarirli se sono malati lui però non esercita mai a fine si ritrovano che ne so mille persone che sono malate e nessuno l'ha aiutate e questo che significa significa non che dio non voleva guarire con le persone ma significa che qualcuno deve esercitare l'autorità che dio ha dato a volte questo qualcuno sei tu quindi e credi che dio e il signore nei dettagli di quella situazione credi che dio ti dà la sua autorità nel nome di gesù ma da oggi di proprio signore io ricevo questa autorità la faccio mia e dichiaro la voglio esercitare e la comincio a esercitare come dio ti dà la possibilità perché l'autorità più la eserciti più diventa grande e come i muscoli questo passo questa cosa che vi dico è in giovanni mi sembra 15 o 16 dove gesù dice chiedete e ricevete affinché la vostra gioia sia piena io dico a te chiede l'autorità e ricevila affinché la tua gioia sia piena infatti i discepoli diranno signore anche i demoni sottomettono a noi nel tuo nome e gesù gli dirà non gioite solo per questo ma gioite perché i vostri nomi sono scritti in cieli in cielo ma non gli dice ma come gioia di scaccia demoni ma noi demoni che devono scacciare no quella non è una vera gioia no no questo è molto molto importante quindi chiedi e ricevi perché la tua gioia sia piena questo è veramente importantissimo cioè è proprio scrittura mamma mia che bello ho aperto ho aperto la scrittura ho trovato il passo che vesto di giovanni 16 24 sentite che dice gesù è fino adesso non domandaste niente in il nome di me cioè non avete domandato nulla nel mio nome sentite che dice gesù è domandate cioè chiedete e riceverete affinché la gioia di voi sia piena giovanni 16 24 quindi chiedete e ricevete cioè l'autorità va chiesta si sa che dio ce l'ha data quindi si chiede e si riceve nel nome di gesù adesso io ricevo questa autorità e con questa autorità prendo autorità su questa situazione e dichiaro la signoria di gesù questa situazione nel nome gesù sgrido e quello che sono le preghiere di liberazione di cui ci ha parlato anche padre a morte che io ho parlato tante volte quindi giovanni 16 24 nella bibbia c'è dice finora non avete chiesto nulla nel mio nome chiedete otterrete perché la vostra gioia sia piena amen alleluia alleluia io ho